Una vecchia cava la cui autorizzazione era scaduta da oltre vent'anni è stata sequestrata dai carabinieri in territorio di Palagonia mentre il proprietario è stato denunciato per attività di scavo abusiva, esecuzione di lavori non autorizzati su area soggetto a vincolo e gestione di impianti di produzione calcestruzzo e frantumazione di inerti privi di regolare autorizzazione alle emissioni. A intervenire sono stati i militari del Nucleo Operativo Ecologico di Catania e della Compagnia di Palagonia incaricati dalla Procura della Repubblica di Caltagirone nel corso di controlli di routine in un comprensorio sottoposto a vincolo paesaggistico e di interesse archeologico. I carabinieri sono intervenuti dopo aver notato due operai che stavano caricando su un camion mediante una pala meccanica un cumulo di sabbia estratto da una cava abusiva che sarebbe stato utilizzato per la produzione di calcestruzzo in un impianto industriale adiacente. Il controllo delle autorizzazioni ha messo in evidenza che la concessione all'impresa per l'attività di scavo nell'area di estrazione era scaduta nel lontano 1999. Immediato è scattato il sequestro dell'area di cava e degli impianti, anch'essi sprovvisti dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il sequestro è stato convalidato dal GIP della Procura di Caltagirone.